Sara ha fatto una fantastica scoperta utilizzando la sua app Mela Rossa. Oltre alla dieta, da oggi c'è un programma personalizzato fitness per allenarsi con esercizi adatti alle proprie esigenze. Con un solo abbonamento, infatti, potrà seguire una dieta personalizzata e un programma di allenamento su misura. Grazie alle animazioni, può vedere come svolgere correttamente gli esercizi. È incredibile! Mela Rossa offre una vasta selezione di esercizi per tutti i livelli. Puoi scegliere il tuo livello tra principiante, intermedio o avanzato. Basta aprire l'app sul tuo telefono, effettuare il percorso di iscrizione e andare nella sezione Fitness. Quindi, se vuoi sperimentare una nuova dimensione di allenamento e affiancarlo alla tua dieta personalizzata utilizzando un'unica app, prova Mela Rossa! Scopri i benefici del fitness a portata di mano. Prova Mela Rossa! Scarica l'app su Play Store, App Store o Huawei App Gallery. L'abbonamento costa solo 2,99 euro al mese e la prima settimana è gratis!